Bene, buongiorno, sono le 15.30 e quindi iniziamo questo primo incontro nel quale vogliamo approfondire il tema dell'innovazione della didattica con uno sguardo preciso su alcune piattaforme di cui parleremo appunto in questi incontri che ci permetteranno di offrire ai nostri alunni e alle nostre alunne delle proposte didattiche interattive e certamente stimolanti. Il programma di questi incontri è così suddiviso con oggi iniziamo ad affrontare la piattaforma Canva che ci permetterà di entrare all'interno di un mondo nel quale potremo prestare particolare cura alla grafica delle nostre proposte didattiche e non solo vedremo ci saranno tante possibilità. Un secondo passo invece sarà quello di esplorare la piattaforma Geniali che è una piattaforma estremamente utile per la costruzione di contenuti interattivi. Il terzo passo del nostro lavoro sarà quello invece di soffermarci sulla creazione di filmati. Ho messo come titolo la video lezione non solo come ancora di salvataggio cioè non solo come momento che ci è servito durante tutta questa pandemia ma uno strumento efficace anche in un'ottica di classe capovolta ma non solo come vedremo. Per concludere parleremo della gamification cioè con questo slogan Giocando si impara cercando cioè di sfruttare a pieno le opportunità che il mondo digitale ci offre per portare i ragazzi a un apprendimento anche attraverso il gioco. In questa fase cercheremo anche di elaborare delle proposte a livello anche di valutazione degli apprendimenti sempre usando come strumento quello della gamification. Quindi possiamo certamente iniziare il nostro percorso e lo facciamo incominciando a entrare appunto nella piattaforma Canva. Ecco come vedete io ho già caricato sul mio computer l'home page di questa piattaforma che si trova all'indirizzo canva.com e in alto a destra vedete abbiamo il pulsante accedi o iscriviti quindi questa piattaforma offre uno spazio gratuito con alcune piccole limitazioni soprattutto per quanto riguarda l'archivio di immagini e video però questa piattaforma appunto offre una sottoscrizione gratuita e quindi può essere immediatamente accessibile facendo semplicemente un'iscrizione andando sul pulsante iscriviti e inserendo come preferiamo noi o un indirizzo email o un accesso attraverso google o con facebook eccetera. Quindi diciamo che chi è interessato a questa tipologia di lavoro deve certamente cominciare a entrare in questa piattaforma fare questa sottoscrizione gratuita per così poter poi mettersi un po alla prova rispetto alle cose che diremo in questi incontri. Ora ci spostiamo sulla pagina della mia sottoscrizione che è una sottoscrizione a pagamento e quindi ha delle possibilità di immagini e di video più ampia. Ecco questa è la schermata iniziale di Canva. Perché ho voluto iniziare da questa applicazione? Perché questa applicazione ci permette come vedete di creare tantissimi possibilità di tantissimi contenuti differenti. Si possono creare dei video, delle presentazioni, si può creare un'infografica o anche semplicemente un documento in A4 da poi stampare ma nel quale cureremo anche in questo caso la grafica. Si può pensare alla grafica del canale di youtube, si possono creare dei grafici, un post su youtube, ci sono delle sezioni nelle quali si possono creare anche dei brainstorming e così via. Insomma come vedete facendo scorrere con la freccia possiamo vedere tutte le possibilità, ad esempio anche la striscia di fumetti, tutte le possibilità che questa piattaforma ci offre. Molto bene. Ora noi cominceremo oggi a vedere, a entrare nella sezione presentazione proprio per capire le potenzialità di questa applicazione. Allora ho cliccato su presentazione e si è aperta davanti a me una pagina bianca nella versione 16 noni. Come vedete abbiamo la schermata bianca in primo piano e poi le pagine che poi aggiungeremo di volta in volta. Allora incominciamo con vedere cosa abbiamo sulla sinistra, il menu di sinistra dove troviamo la sezione modelli, molto importante, poi vedremo perché, elementi, c'è una serie di elementi grafici che potranno essere inseriti nella nostra presentazione, abbiamo il comando caricamenti, vedete caricamenti di contenuti multimediali, immagini, video e audio. Quindi questa è una opzione estremamente interessante perché ci permetterà quindi di arricchire l'archivio anche se siamo in una sottoscrizione gratuita però potremo arricchire caricando i contenuti. Poi ovviamente abbiamo un archivio di immagini, vedremo fra poco come funziona, l'inserimento, la possibilità di inserimento di testi personalizzati o con grafica già strutturata, la possibilità di creare dei colori della nostra presentazione, quindi anche una grafica più curata nel testo eccetera, un archivio di musiche che possono essere inserite come sottofondo della nostra presentazione, un archivio di video, anche qui poi vedremo, lo sfondo che sarà applicato quindi chiaramente, immagini che saranno applicate come sfondo della nostra presentazione, la possibilità di inserire grafici e poi andando più in basso dove ci sono questi tre pallini dove c'è scritto altro avremo la possibilità di creare una connessione con altri applicativi, uno su tutti, quello che ci interessa molto è YouTube e anche qui vedremo più avanti. Bene quindi cominciamo con i primi passi andando a vedere la sezione modelli, allora in questa sezione il sistema ci propone una serie di grafiche preimpostate che noi potremo poi completamente personalizzare senza perdere tempo, ne scelgo una cercando, prestando attenzione sul fatto che noi possiamo anche indicare, ad esempio adesso se clicco su scuola, il sistema mi propone dei modelli che hanno a che fare col mondo della scuola, quindi ad esempio se io clicco su questo lezioni in inglese oppure su quest'aula, ecco vedete il sistema mi ha già preimpostato questa specie di aula molto particolare con un divano, una scuola bellissima, anche a noi piacerebbe avere un bel divano in classe, ecco bene, quindi dicevo ha predisposto questa immagine che noi chiaramente potremmo andare a personalizzare, personalizzare inserendo quindi facendo semplicemente doppio clic sull'elemento invece che, non so, la scritta programma io posso ad esempio scrivere lezione e quindi ho già personalizzato, vedete ho già personalizzato questa lavagna e poi aggiungendo e andando a modificare tutto ciò che ci interessa. Nel momento in cui avendo scelto un modello, questo modello per qualsiasi ragione non dovesse soddisfarci, basta che ci clicchiamo sopra e con la tastiera cancer andiamo a togliere la nostra pagina o molto più semplicemente, che stavo togliendo degli elementi, eliminare la pagina e torniamo in bianco. Se ad esempio, ecco, quando dentro questa sezione modelli vediamo il segno del video, chiaramente vuol dire che il sistema ci propone nella nostra presentazione anche dei contenuti video da inserire. Ecco, ad esempio, ora io proverò a mettere lezione di scienze. Clicco sopra, cosa succede? Mi dice, mi dà il nome di questa sezione e lo chiama viola, corsa spaziale, lezione di scienze, presentazione istruttiva e mi chiede se io voglio, il sistema adesso sta caricando, mi chiede se voglio applicare questo modello alla mia presentazione, cioè mi chiede se voglio applicare tutte le 14 pagine di cui ha costruito questo modello. Se io acconsento, il sistema va a inserire tutte le 14 pagine che, come ho detto prima, possono essere completamente personalizzate. Questo è molto bello perché nel momento in cui io scelgo un modello preconfezionato, che mi soddisfa, che mi piace, e poi lo vado a personalizzare, certamente i tempi di realizzazione del nostro progetto si dimezzano perché tutto l'aspetto grafico di costruzione della presentazione viene molto limitato. Quindi ad esempio se io non voglio fare lezioni di scienze perché sono un insegnante di lettere e voglio parlare di storia, io vado a cliccare su scienze, metto la parola storia e sto già personalizzando. E poi voglio mettere il mio nome, quindi vado invece che dire professor Bellini, metto il mio nome, Mergani, ecco e ho già, chiaramente uno dice, sì Luca però parliamoci chiaro, con la lezione di storia non può essere con questi elementi certamente, è chiaro no? Nel momento in cui ho scelto il modello ovviamente andrò a cercare qualcosa che mi convince sotto il profilo grafico no? Anche se come vedremo fra poco possiamo andare a inserire anche degli elementi. Comunque procediamo, mi sembra che quel discorso sia abbastanza chiaro no? Ecco come vedete sono entrato nella seconda pagina in questa presentazione, molto bella sotto il profilo grafico, siamo all'interno di un'aula in cui c'è questo saluto di benvenuti, vedete siete emozionati per una lezione divertente? Assicuratevi di avere i seguenti materiali prima di iniziare e qui c'è un elenco di tutto quello che gli studenti devono preparare, quindi questo noi possiamo andare a personalizzare, eccetera. Non voglio tediarvi facendovi vedere tutta la presentazione, voglio solo farvi notare che nel momento in cui io dovesse aver finito la personalizzazione di questa presentazione, andando sul clic presenta, sulla sezione presenta in alto a destra, un comando, clicco su presenta e vedo come sarà la mia presentazione. Come vedete è pagina intera quindi anche molto efficace sotto il profilo della proiezione, della presentazione in classe o molto efficace anche nel momento in cui dovesse essere consegnata ai ragazzi come studio e cliccando semplicemente sulla destra della presentazione faccio scorrere le pagine mentre cliccando sulla sinistra torno indietro. Ora prendo l'immagine, ecco queste, esempi e illustrazioni per fare un passaggio ulteriore del nostro lavoro. Abbiamo detto che l'applicazione Canva ci permette, ci consente di inserire dei contenuti che possono essere immagini, video o anche poi elementi grafici. Ora in questi tre spazi che io vedo posso certamente andare inserire qualcosa che arricchisce la mia presentazione, ad esempio voglio mettere una foto, quindi stiamo parlando di scienze, ad esempio vediamo qui che c'è un missile dei pianeti, un meteorite, vado a scegliere ad esempio, vediamo cosa mi dà il sistema cliccando meteorite, ecco vedete il sistema mi offre una serie di immagini che hanno a che fare con la parola che io ho inserito, meteorite, quindi un frammento di meteorite, qualcosa invece di grafica animata, ad esempio questa meteorite che si sta avvicinando alla terra in grafica, no? Facciamo finta che ci piaccia questa questa immagine, io la prendo, la stringo usando, vedete, gli angoli che sono segnati da piccoli cerchi, cliccando su questi angoli io vado a ridimensionare l'immagine che mantiene perfettamente la sua configurazione, vedete, ecco, ora se non mi convince o meglio se non sta esattamente nel riquadro posso procedere in due modi, cioè facendo un doppio clic sull'immagine posso allargarla, vedete che è diventata leggermente trasparente dietro, ecco, e l'immagine appare diretta, completamente dentro il riquadro che io ho, su cui stavo lavorando. Se poi all'interno del riquadro voglio inserire un video, proviamo a vedere cosa ci dice, sempre stando sul tema del meteorite, ecco, abbiamo questo video veramente inquietante di un meteorite che si avvicina alla terra se vogliamo fare qualcosa, oppure semplicemente questo meteorite che rotola nello spazio, no? Quindi io prendo il mio video, lo posiziono nella presentazione, vado a dargli una forma per inserirlo nel riquadro, in questo caso vedete il riquadro, se io trascino l'immagine, ecco, vedete che si è sistemata esattamente nella forma del riquadro. Infine voglio inserire accanto un'ulteriore immagine e prendo questa di un frammento di meteorite e la posiziono all'interno del terzo riquadro. Ecco, benissimo. Ora andiamo a vedere cosa succede alla mia presentazione, quindi clicco ancora sul pulsante presenta, ecco, come vedete la presentazione, dovevo essere più preciso a dire la verità perché vedete che qui sono rimasti dei piccoli segni bianchi, ok? Quindi quando poi andiamo a rivederla a schermata intera ci accorgiamo se abbiamo fatto delle piccole imperfezioni e comunque avete notato abbiamo le due immagini e il video che automaticamente è partito. Molto bene. Ora, facciamo sempre, sempre stando in questo tipo di grafica, proviamo a sostituire gli elementi, quindi vado a cancellarli, cancello anche i riquadri e vado nella sezione elementi e in questa sezione elementi digito la parola cornice. Ecco, nel momento in cui all'interno della sezione elementi inserisco il termine cornice appaiono queste forme con all'interno, vedete, una nuvola e una collina che indicano delle forme nelle quali io inserendo immagini e video vanno ad adattarsi a quella forma specifica. Quindi faccio un esempio, se io decido di prendere come forma questo rettangolo con gli angoli smussati, lo prendo e lo posiziono dove preferisco, diciamo che non vada sopra il pianeta, dopodiché copio l'elemento, lo incollo in modo da avere un secondo elemento esattamente di quella dimensione, notate tra l'altro che quando io clicco sull'elemento e lo sposto si creano, adesso lo rivediamo, si creano delle linee che ci permettono di posizionare correttamente, vedete queste linee viola, correttamente stando in linea con gli altri elementi della presentazione. Ecco, quando io ho inserito questi tre elementi, torno ora su foto, riprendo la foto che avevo scelto all'inizio e la trascino all'interno della forma e la foto prende esattamente la forma del contenitore, chiamiamolo così, quindi prendo anche la seconda e la metto dentro e la stessa cosa vale per il video. Proviamo a prendere, ad esempio, guardate, questo video, molto scenografico, non particolarmente scientifico, però molto scenografico, questo video che ha un formato estremamente lungo, no? Se io lo prendo, comunque va ad adattarsi alla forma nella quale l'ho inserito e quindi quando vado a vedere il risultato finale troverò le immagini e il video che hanno preso questa forma e sono perfettamente allineate una con l'altra perché le righe ci hanno aiutato nel momento in cui le abbiamo volute allineare ma soprattutto, come notate, non abbiamo più il rischio che abbiamo avuto prima di avere delle righe bianche e poi, e poi parliamoci chiaro, c'è un passaggio anche a livello grafico, un passaggio ulteriore perché comunque il risultato del nostro lavoro è certamente più efficace. Bene, tutte queste cornici voi potete sbizzarrirvi a scegliere quella che più vi piace. Come ultimo, come ultimo esperimento, come ultima sottolineatura di questa potenzialità dell'applicazione, io ora vado a personalizzare ulteriormente cancellando tutto quello che ho messo in questa pagina perché voglio farvi vedere questa possibilità presente nelle cornici vedete ci sono tre rettangoli tutti gli elementi, attenzione, tutti gli elementi possono essere ridimensionati e spostati basta cliccarci sopra e vedete che si crea un riquadro e io posso ingrandire, rimpicciolire e spostare ora, io prendo il mio rettangolo lo allargo ancora un pochino benissimo sposto leggermente il pianeta e anche un po' il meteorite così da creare un allineamento abbastanza insomma, ecco vedete che sto il titolo lo alzo leggermente ora, io ho questa cornice fatta di tre elementi questo cosa significa? che se io vado a prendere tre elementi diversi andranno ad inserirsi esattamente in queste tre forme quindi proviamo prendiamo un frammento di meteorite e lo posizioniamo nel primo riquadro prendiamo il secondo video e lo posizioniamo in questo riquadro e poi questo aspetto super scenografico che abbiamo visto prima nel momento in cui io andrò a vedere la presentazione avrò, vedete, i tre video che vanno contemporaneamente ovviamente poi vedremo anche per quanto riguarda la lunghezza del video creando un effetto estremamente suggestivo questo vale per ogni tipo abbiamo detto di cornice ora, come voi avete visto i tre video avevano una lunghezza differente che io vedo sotto il video vedete? 38 secondi 15 secondi 19 secondi eccetera ora, se io clicco sul video che mi interessa notate qui in alto dove c'è dove ci sono queste forbici notate in alto che mi segnala che il video dura 20 secondi il secondo video dura 10 secondi e il terzo video dura 37 secondi se io desidero che i video abbiano la stessa lunghezza faccio sì che tutte e tre i video arrivino a essere da 10 secondi quindi primo video 10 secondi prendo chiaramente quello più come dimensione quella più piccola se poi voglio accorciare ulteriormente fare un video di 5 secondi basta che faccio la stessa operazione su tutte e tre i video e rendo 10 secondi a questo punto avendo fatto questa operazione io clicco su presenta e i tre video partono simultaneamente e come vedrete si fermeranno se ho fatto applica non mi ricordo se l'ho fatto se non l'ho fatto vedremo che non funziona invece no l'ho fatto molto bene come avete visto i tre video simultaneamente si sono fermati anche questo è estremamente efficace quindi la mia presentazione può continuare dopo aver visto un video ecco ad esempio se io faccio vedere un piccolo video magari preso da youtube poi vedremo come successivamente posso anche porre delle domande ai ragazzi e magari nella slide successiva offrire delle risposte Canva non è perfettamente ideale per fare dei questionari no vedremo poi più avanti nei nostri incontri che ad esempio un'applicazione come Genialy ci permetterà invece di essere molto più efficaci in questo senso ma vedremo appunto che tutte queste applicazioni di cui stiamo parlando se si impara a utilizzarle e poi a farle interagire ci offriranno veramente una serie di strumenti che messi tutti insieme possono creare delle unità d'apprendimento veramente veramente stimolanti e anche parliamoci chiaro con una grafica di un certo tipo non buttate lì non cose approssimative con immagini sformate sgranate eccetera ma con una qualità non dico professionale perché noi siamo professionisti di altro non della grafica se non i colleghi che nella grafica ci lavorano però veramente cose molto apprezzabili e anche vi assicuro molto apprezzate dai ragazzi e anche dalle loro famiglie bene quindi volevo appunto farvi vedere la possibilità anche di inserire un video preso da youtube ora facciamo finta di voler elaborare questa slide come vi avevo detto all'inizio andando in basso dove ci sono i tre puntini con su scritto altro noi vediamo che ci sono una serie di applicazioni o di tra i quali c'è anche youtube ora se io clicco su youtube mi si apre una colonna nella quale sono presenti dei video di youtube ora se io digito l'argomento che sto cercando rimaniamo sul tema meteoriti il sistema va a cercare tutto quello che in youtube trova con questa con questa definizione qui ad esempio abbiamo questo video che era stato fatto girare un po' di tempo fa di un meteorite che era si era si era visto nei cieli in russia ora mettiamo che che questo sia il video che mi interessa per far vedere una curiosità ai ragazzi clicco sul video il sistema porta il video all'interno della mia presentazione io posso ridimensionarlo come voglio come voglio e poi posizionarlo dove preferisco ora il video chiaramente ha una sua forma in questo caso sarà necessario togliere la forma sottostante e lasciare semplicemente il video e poi nel caso andare ad arricchirlo con altri elementi grafici magari sotto ecco in questo momento quindi io ho inserito all'interno della mia presentazione un video preso direttamente da youtube la cosa molto interessante è la velocità con la quale ho fatto questa cosa non sono dovuto uscire da canva andare su youtube cercare il video incollare il link ma ho semplicemente preso il video e l'ho inserito nella presentazione e quindi io ora vado su presenta e mi accorgo di avere nella mia presentazione questo video che mi permette abbassa leggermente l'audio così che mi permette di far vedere ragazzi ecco fa molta impressione questo video molto impressione lo fermiamo qui mi permette di far vedere questa scena di questo meteorite che è stato visto passare sui cieli in Russia e quindi ulteriormente coinvolgerli tenendo presente che quando io avrò finito la mia presentazione il video potrà anche essere ingrandito a schermo intero mentre in questa visualizzazione diciamo una pre visualizzazione il sistema mi dice che lo schermo intero non è disponibile ma quando avrò pubblicato la mia presentazione sarà disponibile anche lo schermo intero bene quindi abbiamo visto quante possibilità siamo già quasi a una mezz'ora quindi fra poco ci fermiamo quante possibilità ci sono come ultima cosa volevo farvi notare la questione elementi elementi grafici ok anche qua stiamo sempre su questo tema che non so per quale ragione mi è venuto in mente ma non importa che è quello del meteorite come vedete andando su elementi e digitando la parola di ricerca il sistema mi offre una serie di grafiche o foto ovviamente o video ovviamente questi posso cercare direttamente nell'archivio video e nelle foto però delle grafiche delle grafiche che potrebbero essere utilizzate nel momento in cui ad esempio voglio sostituire il prendiamo questa che così è un po' più chiaro voglio sostituire siccome sto parlando delle meteorite voglio sostituire il pianeta con un meteorite quindi cosa faccio seleziono il pianeta lo cancello col tasto cance dopo averlo selezionato prendo questa immagine di meteorite e la posiziono nel punto in cui voglio io a questo punto sto caratterizzando ulteriormente la mia presentazione sull'argomento di cui voglio parlare ora come attenzione grafica va detto che nel momento in cui io dovessi trovarmi in una slide come questa nella quale sono presenti esclusivamente elementi grafici di disegno digitale ecco conviene stare su questa tipologia perché faccio un esempio se io qui dentro inserisco una foto ecco come vedete non dico che questa foto come si dice come diceva la mia nonna quando ero bambino ci sta come cavoli a merenda ma più o meno ci siamo ci siamo capiti quindi cerchiamo il più possibile di nelle slide di mantenere una uniformità di inserimento di elementi quindi se sono foto usiamo le foto se sono elementi grafici usiamo gli elementi grafici e così via ecco ovviamente questo non sto neanche a dirlo perché immagino che tutti l'abbiate già intuito possiamo mettere tutti i testi che vogliamo possiamo sia modificare quelli già presenti sia inserirne di nuovi vedete abbiamo in alto tre tipologie di testo intestazione sottotitolo corpo del testo che vanno a cambiare nella dimensione che poi posso personalizzare facciamo proprio quest'ultima cosa molto rapida e cioè se io inserisco un testo ecco vedete l'elemento testo che si è inserito cliccandoci sopra faccio lezione uno chiaramente qui avrei potuto usare il testo già presente ma lo sto facendo solo come esempio no quindi anzi tolgo questo per essere più chiaro lezione uno ho inserito il testo che mi interessa però voglio caratterizzare il carattere non c'è nessun problema vado in alto a sinistra dove posso vedete abbiamo la tipologia del carattere la dimensione il colore in certi casi la possibilità di mettere il grassetto l'inclinato il sottolineato non sempre il grassetto è possibile e poi la sostituzione tra maiuscolo e minuscolo l'allineamento del testo e qualche effetto ma su questa parte degli effetti delle animazioni magari la vedremo la prossima volta anche per non appesantire troppo questo primo incontro come vedete io ho cliccato scusate non l'ho spiegato ho cliccato sulla tipologia del testo e come vedete appaiono una quantità enorme di caratteri no? ad esempio se io scelgo gagaline vedete che il testo si è modificato bright ecco eccetera eccetera potete anche qui sbizzarrirvi stando attenti lo dico per esperienza di non farvi troppo prendere la mano su queste cose se no per preparare una presentazione ci vogliono le giornate intere perché dice ma no questo carattere sarebbe meglio cambiare e quindi si passa le ore semplicemente a cercare carattere il consiglio che do è questo quando abbiamo trovato 4, 5, 6 caratteri che ci sembrano efficaci nelle nostre presentazioni continuiamo a usare quelli in modo da non perdere troppo tempo per per la scelta dei caratteri suggerimento chiaramente individuate dei caratteri che possano andar bene anche per gli alunni di SA in modo da ottimizzare la lettura anche per loro bene quindi detto questo ci salutiamo ci vediamo la prossima volta approfondendo ancora l'applicazione Canva chiedo a tutti coloro che sono interessati di iscriversi a fare una sottoscrizione gratuita a Canva e incominciare a entrare in questa piattaforma per acquisire gli elementi necessari per la creazione di una presentazione la prossima volta approfondiremo ancora leggermente e poi passeremo ad altro vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo settimana prossima sempre alle 15.30 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti